Io volevo dire che il titolo del libro Mentor, anzi mi rovina un po' la piazza perché c'avevo una battuta prima ogni tanto incontravo un amico e dicevo, ah se ne è che sto leggendo un film bellissimo per dire, ma minchia adesso questo libro qua ah quindi stai leggendo quello che dice una toma facciamo un pezzo del nostro disco che si chiama Tu mi sai dire trovo la sordina se no si sente una cipolla Tu mi sai dire cosa è musica e mi sai dire anche perché tu mi sai dire cosa è l'ottima mentre l'undici giunge lo sai, ah non lo sai che sono solo al mattino mi vieni se fai se fai puoi venire e mai in te respiriamo le sonso e stai qui con me e non partire mai Tu non sai neanche cosa è l'ottima mentre lo dico mentre lo dico tu non c'è lo sai, ah non lo sai che sono solo al mattino te vieni se fai se fai puoi venire e dai e dai e dai e dai e dai respirando nel senso e stai qui con me e non partire mai se fai 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 ti preparo un caffè grazie Grazie.